Ciao, siamo Martina e Martina, responsabili del corso Sport per tutti i Kids, dell'impianto WISP Fulvio Bernardini. Un corso ideato per bambini dai 3 ai 5 anni, con lo scopo di avvicinarli ai diversi sport attraverso il gioco. Oggi vogliamo giocare con voi a un gioco di massima precisione, presentandovi la carta gioco Croquet in casa. Per giocare a Croquet avrai bisogno di qualcosa che assomiglia a una mazza. Noi, per esempio, abbiamo preso un bell'ombrello dei genitori, poi una pallina. Possiamo farla anche accartocciando un foglio di carta da riciclo. E per ultimo, degli archetti simpatici. Puoi prendere, per esempio, 2 o 3 dei tuoi libri preferiti di fiabbe. E infine, se preferisci, l'ultimo archetto può essere una bella sedia. Siamo pronti per giocare? E allora prendi la tua mazza e colpisci precisamente la palla facendola passare sotto il primo archetto. E continua così fino a raggiungere l'ultimo. E perciò avrai raggiunto il tuo obiettivo. Buon divertimento! Seguici sulla nostra pagina Facebook. E ti aspettiamo per il prossimo appuntamento con un'altra carta gioco. Ciao! 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 Grazie a tutti.